Infine per terminare i coltellini svizzeri abbiamo un mini coltellino svizzero da mettere in tasca sempre col portachiavi che ha anche la particolarità di avere una memorietta USB nel quale uno può mettere i suoi programmi preferiti. Per esempio quando uno viaggia mettiamo che ha il suo programma di chat preferito con tutti gli indirizzi, va in un albergo o nel roste dell'Italia della gioventù dove vado io, infila la chiavetta dentro al computer del posto e ha il suo chat. Questa è anche estraibile ma non mi ricordo come si fa per cui la lascio lì. E poi vabbè ci sta una lama piccolina, un cacciavitino con la limetta per le unghie. Utilissime queste perché spesso mi si rompono le unghie e per tagliarle bene mentre viaggio c'è questa forbicina. Ah poi, molto carino, c'è una lucetta che premendo questo marchietto qui della Vittorinox si accende e alla fine c'è anche questa punta di penna biro. Per firmare le cambiali eccetera, qualsiasi cosa. C'è qui il suo slide. Ups. Esce fuori. Uno firma il segno e poi lo rimette dentro. Per emergenza ovviamente. Bene. Alla prossima.